Davide, inglese, italiano, come vuoi tu? Italiano, meglio. Ok, meglio italiano. Terzo posto, forse potevi fare anche qualcosa meglio se nella partenza fossi stato più avanti? Sì, il problema è iniziato, cioè partire qua all'esterno non è facile, anche nella pre finale, anche se l'ho vinta, per un decimo non partivo all'interno. Quindi vabbè, sono partito secondo, all'inizio ero sesto, settimo, e dopo ero molto veloce, il ritmo era molto buono, quindi sono riuscito a risalire. Alla fine ho cercato di prendere Bas, che era quello davanti, ma lo prendevo un po', ma non sono riuscito ad arrivare. Ero molto contento perché prendo i punti per il campionato, che è l'importante, e grazie alla squadra che ha fatto un lavoro tutti i fini di settimana molto buono, e alla mia famiglia e ai montori. Hai capito dove Clemente andava più forte di te? C'è un punto o dei punti sulla pista dove credi che lui andasse più forte di te? Lui è andato molto forte tutti i fini di settimana, anche nel match, particolarmente lui, ma alla fine non era tantissima la differenza. Anche adesso in finale ce l'avevo davanti e non mi scappava, era sempre lì. Solo le partenze all'esterno ti hanno un po' svantaggiano. Bravissimo! Bravo David! Grazie a tutti!